Il procuratore della Repubblica di Salerno, Franco Roberti, nel corso di una intervista rilasciata a margine del convegno napoletano sui beni illeciti promosso dall'Associazione Culturale Youset Gestio, costituita da professionisti campani, avvocati e dottori commercialisti, esperti e studioso dell'Istituto Giuridico delle Misure Patrimoniali Antimafia, ha sottolineato come a Salerno e Provincia i livelli di attentato all'ordine pubblico sono più bassi, si spara molto meno che nel napoletano e casertano. Dati che, secondo Roberti, sono il segnale che probabilmente nel salernitano si fanno più affari. Da qui la necessità, sottolineata dal procuratore, di mantenere sempre alta la guardia sul piano investigativo e per individuare casi di riciclaggio e colpirli. Nel salernitano il lavoro proficuo della direzione investigativa antimafia ha consentito di ottenere negli ultimi anni risultati più che soddisfacenti, mettendo a disposizione della DDA un quadro abbastanza nitido dei movimenti delle organizzazioni del malaffare sul territorio. Roberti, sollecitato dai cronisti, è intervenuto anche sulla riforma delle liberalizzazioni delle professioni, esprimendo solidarietà agli avvocati. Pur non volendo mancare di rispetto alle prerogative del Governo e del Parlamento come cittadino, ha detto Roberti, esprimo la mia preoccupazione per la piega che le cose potrebbero prendere qualora si procedesse alla liberalizzazione delle professioni forense. Pur non volendo mancare di rispetto alle prerogative del Governo e del Parlamento come cittadino, ha detto Roberti, esprimo la mia preoccupazione per la piega che le cose potrebbero prendere qualora si procedesse alla liberalizzazione della professione forense. Secondo Roberti, in territori che registrano la presenza di organizzazioni mafiose, che, ha detto il Procuratore, si avvalgono di professionisti per controllare l'amministrazione giudiziaria, credo che la liberalizzazione debba preoccupare i cittadini. Roberti ha inoltre evidenziato come tutte le riforme dovrebbero andare a vantaggio delle prerogative della cittadinanza e non so, ha concluso, se questa riforma vada in questa direzione.